E dunque, dopo le vittorie delle women, dopo le vittorie della prima squadra, arriva anche la vittoria dell'Under 23 che batte in casa la Propatria per 3-1. Non è stata una partita scontata e così facile, la Propatria è un'ottima squadra, però credo che l'Under 23 abbia fatto una grande partita, sia prima, quando doveva segnare, ma anche dopo quando ha dovuto difendere, anche in 10 per un'espulsione, per quello che si è visto, a meno che non è saltato fuori qualcosa che non abbiamo visto, ma per quello che abbiamo visto, sinceramente, l'espulsione di Di Pardo è a quanto assurda. Detto questo, la Juve che va in vantaggio, va in vantaggio grazie a una rete meravigliosa di Lianocchi, ha fatto un dribbling pazzesco e ha fatto un grandissimo gol, poi ha raddoppiato sullo scambio Correia e Raffià, due dei giocatori con maggiori qualità di questa squadra, che è riuscito con un 1-2 veloce a spiazzare completamente tutta la retroguardia della Propatria, poi è arrivato il terzo gol su rigore, o meglio, rigore sbagliato da Raffià, ma con la traversa, pallone che ha sbattuto sul portiere della Propatria ed è entrato in rete, e la Juve si è trovata sul 3-0. Poi la Propatria è riuscita a trovare il 3-1, e poi bisogna dare merito alla squadra Lombarda di non aver mai mollato fino alla fine. Però, nonostante questo, la Juve difende bene, porta a casa tre punti pesanti, pesanti, pesanti. Altri tre punti? Ora, io non so bene la classifica, perché non ho avuto sotto mano i risultati subito, ma la Juve potrebbe avere scavalcato anche la Pro Sesto in questo momento, visto che stava perdendo, pensate, la Pro Sesto che stava facendo benissimo, stava perdendo 5-0 col Piacenza, che è una squadra che stava invece facendo molto male in questo video di campionato. Questo fa capire quanto variabile sia il calcio in questo momento e quanto variabile sia questo campionato di Serie C, perché veramente stiamo vedendo dei risultati veramente pazzeschi, e la Juve è brava, perché sta riuscendo a mantenere una certa continuità, cosa che non è così scontata, insomma. Anzi, direi che è una bella situazione, insomma, perché comunque abbiamo battuto un'altra squadra che secondo me era molto forte, come la Pro Patria, con una sorta anche di tranquillità. Poi nel finale è stato un finale molto concitato, ci sono stati i spintoni, eccetera, via discorrendo, però vabbè, insomma. Allora, la classifica l'ho aperta adesso, e stavo leggendo appunto che, sì, la Pro Sesto ha perso, quindi la Juve dovrebbe aver guadagnato almeno una posizione, poi bisogna vedere gli altri risultati, sia cosa ha fatto la Carrarese, ma soprattutto cosa ha fatto il Como anche, perché il Como era davanti alla Juve, per avere un'idea della classifica completa. Però, finché non vedo la tabella con i risultati, non posso dire. Sto vedendo... Allora, ieri la Renate ha vinto, l'Eco sta in 104 a 1 sulla Pistogliese, la Juventus ha battuto la Pro Patria, fortunatamente, ecco, ad esempio, la Carrarese ha perso contro la Pergolettese, Pergolettese avete visto che la Juve ha battuto, e quindi la Juve raggiunge anche la Carrarese in classifica, e pareggio del Como, quindi la Juve in un balzo solo si trova clamorosamente al terzo posto in classifica della Serie C. Direi che va più che bene, considerando il periodo, considerando anche le assenze che ha avuto per gran parte del campionato, e quindi direi che è un'ottima Juventus 23, che non poteva raggiungere oggi né Renate né la Pro Vercelli, però in questo momento aggancia appunto la Carrarese che ha perso con la Pergolettese, e aggancia anche il Como che ha pareggiato, quindi è andato a 25, Juve 25 punti, terza in classifica, direi che è un risultato eccezionale, e che speriamo che possa continuare con questa marcia, perché è una marcia veramente incredibile di questa squadra, che sta crescendo partita dopo partita. Ragazzi, chiudo qua con il migliore, il migliore in campo, lo diamo a, è una bella lotta, perché l'avrei dato anche oggi a Ranocchia, ma voglio premiare Felix Correia, perché ha fatto una partita di sacrificio, e ha trovato anche il gol, e visto che a volte giustamente l'ho anche criticato, perché certe partite l'ha giocata in ciabatte, si merita assolutamente stavolta il premio di uomo partita. Dunque ragazzi, a me non resta che salutarvi, dovi appuntamento per i prossimi video del canale. Ciao a tutti.